E' uno a uno a Firenze tra Fiorentina e Udinese, calcio di punizione splendida di Vargas che è titolare e torna al gol, il gol numero 5 per lui. Vargas immobile a Andanovic ad osservare la traiettoria del sinistro. Dopo il tocco di Montolivo, la conclusione potentissima di Vargas che ha un po' sorpreso a Andanovic da vedere dove si è passato. E se eventualmente ci sono responsabilità della barriera. Ecco qui Montolivo che tocca per Vargas, perdendo Torino 1-0. La Fiorentina attaccava la ricerca del gol del 2-0.